Il tarra menta che gli istituti dell'occupazione appropriativa e dell'occupazione usurpativa sono rispettivamente caratterizzati l'uno dall'irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio e l'altro dalla trasformazione in assenza originaria o sopravenuta di dichiarazione di pubblica utilità. Il tarra accoglie il ricorso riconoscendo verificata la cosiddetta occupazione acquisitiva alla dichiarazione di pubblica utilità e al decreto di occupazione non eseguito il decreto di esproprio. Le aree sono in possesso dell'ANAS essendosi verificata l'irreversibile trasformazione a seguito della realizzazione della terza corsia del raccordo e del nuovo svincolo. In particolare, si fatta trasformazione del bene ha prodotto il trasferimento della proprietà del bene senza necessità di un ulteriore atto di acquisizione. Rispetto alla quantificazione dei danni, il tar fa riferimento al valore venale dell'area, commisurato al valore edificabile del terreno e riconoscendo applicabile il potere di cui ha l'articolo 34,4 del decreto legislativo numero 104 del 2010 e condannando conseguentemente l'ANAS essendosi a proporre una somma a titolo di risarcimento nel termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero dalla comunicazione se anteriore. Trattandosi di risarcimento del danno e quindi di debito di valore, il tar ha precisato che la somma deve essere rivalutata dalla data della scadenza del termine di occupazione legittima al momento della proposta ex articolo 34. Su tale somma devono essere poi calcolati i cosiddetti interessi compensativi a decorrere dalla data di scadenza del termine di occupazione legittima e fino alla data della proposta. Ciò in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno. Su tutte le somme dovute decorrono altresì gli interessi legali dalla data della liquidazione fino all'effettivo soddispo.